Capitan Falco, grande gol, peccato che servita a poco, però meritavate i tre punti e avete buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ma al di là del gol l'ho ripetuto già più volte, a me del gol mi interessa ben poco, sì, sono contento per me, ma io voglio ringraziare la squadra per quello che ha fatto oggi, non allenandoci tutta la settimana. Ci siamo fatti una piccola sgambatura ieri, c'era gente che veramente non riusciva nemmeno a stare in campo per dieci minuti. Tutti quanti ci siamo uniti perché il nostro obiettivo è quello di salvarci. Quello di fare i più punti possibili, però adesso noi speriamo soltanto che la società ci metta a disposizione un qualcosa per andare avanti. Non si tratta solo economico, strutto, economico, tecnico, tutto, perché purtroppo in queste condizioni si fa fatica. Si fa fatica, lo si è visto negli ultimi dieci minuti, c'era gente che non ce la faceva più. Abbiamo bisogno di tutti, i tifosi ci sono vicino, la gente ci è vicino, adesso aspettiamo soltanto che anche la società ci è vicino. 80 minuti alla grande, avete impresso un gioco strepitoso, loro hanno sofferto tantissimo, puntavano sulle ripartenze, la partita l'avete fatta voi, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo dopo il pareggio ci avete continuato a credere, hai fatto quell'Euro goal tuo, poi le forze vabbè sono venute meno, però alla fine è un risultato importante. Sicuramente è un punto importantissimo per noi oggi con la San Benedettese, anche se fino all'ottantesimo eravamo in vantaggio, però purtroppo adesso è inutile piangere e dire che potevamo vincere i tre punti. Ormai è andata così, un punto per noi va più che bene, adesso domenica abbiamo un'altra trasferta delicatissima col Fano. Dobbiamo andare avanti, adesso martedì noi siamo qui, ci alleniamo, sappiamo che c'è una riunione martedì pomeriggio alle 5, speriamo che va per il verso giusto e poi basta, ci serve tranquillità perché io sono sicuro che questa squadra si salva. Tu oramai sei termolissimo, la maglia che indossi è giallo-rossa, avete rimesso le maglie giallo-rossa, un segnale di ripartenza? Ma sicuramente, io diciamo tra virgolette è il terzo anno più o meno che sono qui, sono contentissimo di stare qui, starei a vita, non è un problema per me, l'importante ripeto è la società, la società che ci deve dare una mano, ci deve stare vicino, purtroppo in questo momento non ce l'abbiamo la società, o meno c'è ma non c'è, quindi non si sa. Ma ripeto, aspettiamo martedì, noi stiamo qui, ci alleniamo martedì e poi vediamo cosa succede. Il simbolo di quell'esultanza, hai baciato una maglia, sei corso verso i tifosi, un segnale di grosso affetto, non solo per i tifosi ma anche per la cittadina. Ma sicuramente, io ripeto, sono affezionato a Termoli, quando sono stato chiamato a dicembre non ci ho pensato due volte a tornare perché sono stato benissimo, ho quasi vinto un campionato, l'anno scorso sono andato via a dicembre ma non sarei mai andato via, però adesso sto qui e penso soltanto al benissimo. A bene del Termoli, a bene della squadra e a salvarci.